E' Simona Neri il primo sindaco del comune unico nato dalla fusione di laterine Pergine-Valdarno. Il primo cittadino uscente di Pergine ha infatti vinto dopo una clamorosa rimonta sul candidato di centrodestra Stefano Bellezza. Decisivo è stato lo spoglio degli ultimi quattro seggi. Siamo veramente molto felici perché è stata una conferma per me e anche per il mio gruppo. Noi abbiamo forse voluto questa unificazione dei comuni e abbiamo costruito un progetto di benessere e di sviluppo che passa dalla sicurezza, passa dal potenziamento della promozione turistica e passa sicuramente anche dall'erogazione di più servizi per le fasce più deboli per gli anziani e per i bambini. Simona Neri con la lista civica Uniti per la Terina, sostenuta anche dal Partito Democratico, è diventata sindaco con il 43,74% delle preferenze, pari a 1.533 voti. Stefano Bellezza si è fermato a 1.463 voti, il 41,74% delle preferenze. Ha raccolto infine quasi il 15% dei consensi Rossella Lattanzi, candidata per la lista a sinistra. Una vittoria che dà così respiro al centro-sinistra dopo una serie di sconfitte subite nel corso delle precedenti amministrative. La nostra è una lista civica, lo abbiamo sempre detto, ci sono molte sensibilità al proprio interno ed è stata una lista che è partita dalle nostre amministrazioni, ma ci sono anche tanti giovani e nuovi volti che provengono dal mondo delle associazioni, proprio perché ci siamo incontrati con loro e era fortissimo il desiderio di riuscire a coinvolgere delle persone che già lavorassero per la propria comunità e che quindi conoscessero anche il senso del sacrificio. I primi obiettivi? Allora abbiamo già in cassa un'ingente quantità di contributo derivanti appunto dalla fusione, un contributo regionale, un contributo statale, quindi appena possibile ci metteremo subito all'opera per garantire più sicurezza, quindi strade, manutenzioni, completamento dei marciapiedi ed efficientamento dell'illuminazione. Tra questo chiaramente porteremo avanti i progetti che abbiamo già finanziato nelle passate legislature come l'adeguamento sismico di tutti i plessi scolastici che abbiamo finanziato tramite il Ministero proprio all'inizio dell'anno. Nell'uovo comune ha votato il 64,20% degli eventi diritto. Si è votato domenica 29 luglio dopo che le elezioni di quasi due mesi fa vennero rimandate per la morte del candidato di sinistra Giovanni Lari.